I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Sala Consilina, guidata dal capitano Paolo Cristinziano e della stazione di Polla, comandata dal maresciallo Giacomo Mezzo, hanno sottoposto a fermo un 37enne residente a Polla, già noto alle Forze dell'Urne, per la rapina in un centro scommesso avvenuto a questo ferragosto a Polla. L'uomo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, insieme a un complice aveva minacciato la dipendente con una pistola e si era impossessato dell'incasso di diverse migliaia di euro. Dopo la rapina i due malviventi si erano dileguati a piedi nelle vie adecenti, facendo così perdere le loro tracce. Il tutto avvenne intorno alle 14 del pomeriggio. L'attività investigativa, coordinata dalla Procura di Lago Negro e avviata nell'immediatezza dai militari della stazione di Polla, si è concentrata sulla visione dei filmati delle telecamere presenti nell'esercizio commerciale. Le immagini, secondo quanto emerso, hanno consentito di acquisire importanti informazioni sullo modus operanti e sull'abbigliamento indossato dai due rapinatori. Quanto raccolto dalla stazione di Polla è stato ampliato da altri accertamenti eseguiti dal nucleo operativo della Compagnia Carabinieri di Sala Consrina e i risultati delle indagini hanno consentito alla Procura di Lago Negro di disporre, nei confronti del 37enne di Polla, la perquisizione domiciliare che ha permesso di sequestrare gli abiti indossati il giorno della rapina. Le scarpe e una pistola schiacciacane. Le indagini sono in corso anche per identificare il secondo rapinatore.